Continua la promozione del territorio da parte dell'ATL del Cunese che sta preparando una nuova iniziativa. E' proprio così, dopo aver realizzato negli scorsi mesi una serie di magnifici filmati promozionali sulle valli alpine del Cunese che hanno interessato tutte le valli, dalla Valtanaro alla Valle Po, stiamo lavorando in questi giorni alla realizzazione di altri video promozionali che hanno come protagoniste le città d'arte della nostra provincia. Abbiamo iniziato girando a Saluzzo, siamo oggi a Cuneo e nei prossimi giorni, nelle prossime settimane ci occuperemo di altre città importanti dal punto di vista culturale come Fossano, Mondovì e Savigliano, per terminare poi con una serie di riprese nelle maggiori opere d'arte, nei castelli e nei palazzi nobiliari della nostra provincia. Tutto questo per attirare un pubblico di turisti che, oltre alle attività outdoor protagoniste del nostro territorio, sono interessati anche agli aspetti culturali. Più avanti, nell'autunno, sarà la volta del comparto enogastronomico, quindi lavoreremo sui prodotti tipici del nostro territorio che quest'anno purtroppo non riescono ad essere a pieno protagonisti degli eventi feristici tradizionali che in parte non saranno realizzati, cercheremo di supplire quindi noi, dando loro visibilità attraverso degli strumenti promozionali online. Ottimo!